Il anno 2010 Abbiamo appena attraversato la sera nevada Siamo a metà delle Alpugiaras E adesso andiamo nel deserto di Almeria C'è ancora neve là sulla sierra L'abbiamo appena lasciata L'abbiamo appena lasciata L'abbiamo appena attraversato di 2000 km tutta fuori strada Diciamo al 95% Su una moto da 3 Credo che sia il tuo record Siamo a metà delle Alpugiaras Grazie a tutti.